Punta sulla sostenibilità ambientale, quella sociale, il primo bilancio di Ferrarelle Spa presentato questa mattina a Napoli. Il rispetto dell'ambiente e la riduzione dell'impatto delle attività industriali sono priorità assolute per l'azienda che nel suo impianto utilizza il 96% dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico, registrando inoltre più del 90% di riciclo dei materiali scartati dal processo produttivo. Intervenuto all'incontro il presidente e il responsabile comunicazione di Ferrarelle, Carlo e Michele Pontecorvo. L'obiettivo è il bilancio, che è il nostro primo bilancio di sostenibilità ed è per noi un momento di grande orgoglio ed è anche l'occasione per mettere a sistema questo bilancio che raccoglie tutte le nostre iniziative di responsabilità sociale di impresa e di welfare interno e esterno e raccontarlo al nostro territorio, a tutti i stakeholder dell'azienda, ai suoi partner, ai suoi fornitori fino al consumatore finale e invitare tutti a un atteggiamento e a un comportamento di consumo maggiormente sostenibile.